Divina Madre, da Ashtar Ashtrea, 15 settembre 2020, traduzione marina, tutti sono cosmicamente trasformati e tutto è cambiato miei carissimi, il mondo è cambiato, sia che le persone lo capiscano o meno, non c'è nient'altro che funzioni come prima, siete stati intensamente trasformati e adattati per quello che sta per arrivare, i governi, le religioni e i sistemi sociali, guidati dagli erconti illuminati, fanno di tutto per non rendersene conto, vogliono insistentemente spaventarvi, causando insicurezza, irritazione, ansia, mentre la rabbia e la paura sono ciò che causa maggiore squilibrio nelle persone, tutto quello che le persone vivevano non esiste più, ciò che ci piaceva non ci riempie più e molti hanno cambiato il modo di vedere le cose, e iniziano a vedere ciò che prima non vedevano, anche se molti sono più arrabbiati, più arrabbiati che mai, perché vogliono trovare un colpevole per tutto quello che sta accadendo, la verità la verità è che c'è una riforma intima molto grande che si sta manifestando e, d'altra parte, una riforma su tutto il pianeta, che si sta letteralmente ripulendo, anche se i media fanno di tutto per non informarvi, è importante sapere che chi sta fornendo tutto questo è il Divino Padre, Madre e Cristo, presso la gerarchia cosmica, che in voi sta operando, aiutati da vicino dagli esseri della Confederazione Intergalattica dei Mondi Liberi, che sulle loro navi portano esseri di alto livello, come i genetisti cosmici, provenienti dalla ventunesima alla ventiquattresima dimensione, che cambiano la struttura fisica delle persone con l'attivazione del DNA da 2 a 12 catene, anche gli esseri dalla ventiquattresima alla ventisettesima dimensione stanno cambiando tutta la tecnologia preesistente sul pianeta, per adattarsi e non permettere di nuovo che l'umanità venga schiavizzata, e impediscono anche che ci sia esibizione della tecnologia Arconte, che fa di tutto per esibirsi nel cervello, rendendo la mente umana manipolabile, ma siate nella tranquillità, perché l'oscurità non ha più l'incidenza che finora ha avuto sull'umanità e non potrà più schiavizzarvi, capite che tutto quello che accade è nelle mani del Padre Creatore che comanda tutto da vicino e, come disse Arcangelo Michele nel 2014, nessuno tocchi nemmeno un capello dei figli della luce, non lasciatevi guidare dalla negatività e non date forza a ciò che l'oscurità vuole passarvi, nel tentativo di dominarvi, non entrate nell'insicurezza, nella paura e nemmeno nella rabbia o nell'irritazione, tantomeno lasciarvi prendere dalla rivolta, altrimenti la vostra vibrazione cadrà e l'oscurità potrà trovarvi, siete luce e vivete nella gioia e nell'amore, che l'oscurità non vi raggiungerà mai, vi amo tantissimo, la vostra divina madre traduzione marina